In pausa caffè, in attesa delle dirette di taglia 1 e di rete 4 di questa sera, si conferma l'arrivo di un po' di freddo. Finalmente le temperature si porteranno su valori normali, se non addirittura leggermente al di sotto. Un primo impulso arriverà tra domenica e lunedì, riporterà un po' ovunque temperature su valori normali, quindi tipici di inizio dicembre. Poi un secondo impulso, attenzione, arriverà tra lunedì e martedì e colpirà soprattutto il centro-sud. Per i versanti adriatici in particolare, vedrà le prime nevicate a bassa quota fino anche a 500-600 metri sull'alpennino centrale. Il nord rimarrà ai margini, questo vuol dire un po' di freddo ma con tempo asciutto. Insomma, un primo ossaggio d'inverno, un inverno che ancora però deve partire col piede giusto.